Grande fratello, indiscrezione bomba sul cast, ecco chi entrerà nel nuovo reality. I preparativi per il nuovo grande fratello sono in dirittura d'arrivo. Il programma di Alfonso Signorini comincerà infatti lunedì 16 settembre 2024 con i due consueti appuntamenti settimanali in diretta su Canale 5. Aspettando il programma è stato svelato un nome eccellente dei nuovi concorrenti. Michael Castorino nel cast del GF. Stando alle ultime indiscrezioni, oltre a Enzo Paolo Turchi, Shayla Gatta, Clarissa Barte e Clayton Norcross, varcherà la porta rossa anche Michael Castorino. Michael Castorino, ha da sempre avuto una grandissima passione per i bambini e anche per il mondo della recitazione. E' un protagonista di molti spot ed ha anche aperto con la sua amica Giulia Ciaccio il mondo di Me G, ha dichiarato in un'intervista. Io e Giulia abbiamo sempre amato i bambini. Abbiamo iniziato come animatori, poi abbiamo anche imparato l'arte dell'allestimento e poi il resto, la ricerca delle location, dei catering. Per ogni evento ci sono vari passaggi e appuntamenti con i genitori. Facciamo animazione anche ai matrimoni. Adesso vanno molto di moda i gender reveal, noi sappiamo il genere prima dei genitori e anche dei familiari. I ginecologi si mettono in contatto con noi. Il supereroe preferito di sempre dei bambini? Spider-Man, in assoluto. Torta che va per la maggiore, la torta di Elsa, poi le classiche, la crostata alla frutta e quella alla Nutella. Nella nuova edizione del Grande Fratello a partire dal 16 settembre 2024 ci saranno molte novità, in primis il trasferimento della casa agli studi Lumina Studios al nord della capitale e lo studio nella cornice naturale del Parco di Veio. La casa avrà comunque le stesse dimensioni di quella precedente, ma ci saranno anche molti ambienti per sorprese e quanto altro. Una notizia che forse non piacerà ai fans è che anche questo anno interromperanno la diretta alle due. Grazie a tutti. Grazie a tutti.